Acciuffata la banda dei Rolex, ne è convinta la polizia che ha arrestato due uomini di origine napoletana. I due avrebbero sottratto gli orologi dal valore di diverse migliaia di euro, a una commercialista impegnata a fare jogging sulla riviera e a un noto imprenditore nei pressi della sua abitazione. Avvicinavano le loro vittime dopo averle seguite durante il percorso quotidiano e poi con la forza le strattonavano, le scaramettavano a terra e si impossessavano dei preziosi orologi che portavano al polso. Le forze dell'ordine, studiando i tabulati telefonici, le immagini delle telecamere e le testimonianze, avevano dei sospetti su uno dei napoletani. Sono così riusciti a intercettarli durante quel che sarebbe il tentativo di una rapina alle poste. Noi avevamo un'idea già da prima, tant'è che stavamo seguendo questo soggetto e poi successivamente ha tentato la rapina all'ufficio postale, tant'è che questa mattina l'abbiamo preso che era ai domiciliari per quel tentativo di rapina. Ma in realtà noi eravamo su di lui già all'indomani della rapina all'imprenditore pescarese. Solo uno degli arrestati è residente in Abruzzo, a Francavilla al Mare, per cui gli investigatori ritengono che i complici arrivassero nella nostra regione appositamente per il furto, per poi tornare a rivendere la merce in Campania. L'uomo stanziato sul territorio sceglieva la vittima prima di chiamare i complici. Un modus operandi, spiegano i poliziotti, tipico dei napoletani. È probabile che la persona residente in Abruzzo facesse un po' da punto logistico e quindi fosse il veicolo delle informazioni per i suoi concittadini e ce lo dimostra poi il tracciato dei tabulati telefonici che venivano per colpire e tornavano a Napoli dopo aver colpito. Stiamo lavorando anche sul possibile coinvolgimento di queste persone, su altri analoghi episodi che si sono consumati in territorio chitino.